Ma tra Ferlaino e De Laurentiis? Beh, tu Ferlaino giustamente lo hai conosciuto benissimo, direi, visto che hai lavorato con Ferlaino. De Laurentiis è così difficile stare al suo fianco? Io direi, possiamo dirlo, io credo che sia impossibile. Personalmente, professionalmente, nulla da dire. Voglio dire, assolutamente uno spessore imprenditoriale, quello di De Laurentiis, fuori dalla norma. Ma personalmente è molto difficile, se non è impossibile. Solo per la maglia! Benvenuti o bentrovati a Solo per la maglia. Un podcast che vorrebbe tanto stare a Di Maro, nel fresco, con il suo stand. Ma non ci siamo, quindi per aiutarci a essere lì l'anno prossimo, vi chiediamo di lasciare like a questo video, di seguirci sul nostro canale e anche su tutti i nostri social, di cui trovate il link in descrizione. Se poi avete altre esigenze, potete seguirci anche su Spotify, dove trovate tutte le puntate. Solo per la maglia è un podcast che parla di calcio, passione e amore. Per i propri colori, ma soprattutto per la propria maglia. E a proposito, di chi ama la maglia, ho il piacere di presentarvi il nostro host, che certamente non è vestito con un completo da matrimonio come il nostro nuovo DS, Mauro Meluso, nel giorno della presentazione, ma che io trovo comunque molto elegante. Carmine Martino. Fa caldo, non siamo a Di Maro e quindi io ho la polo senza giacca, però penso, spero che vada bene lo stesso. Perfetto. Invece l'ospite che è alla mia destra, invece lui è sempre perfetto con la giacca e se si parla di sport, di passione, di maglia, non si può fare altro che parlare di Gianluca Vigliotti. Ciao Gianluca. Ciao Carmine, ciao ragazzi, grazie dell'invito. Già che io alle 6 del mattino ho letto la giacca per tutti i multiservizi che uno deve fare, quindi vado bene, poi al secondo se la devo utilizzare o meno, però il vestito di matrimonio di Meluso è tanta roba. Bisogna fare i complimenti subito perché è una cosa che abbiamo pensato tutti, è che pochi hanno avuto il coraggio di dire. E invece qui si può dire tranquillamente. Tra l'altro bisogna dire che è stato anche presentato perché Giuntoli, quando fu nominato direttore sportivo, non ebbe questo onore. Sì, devo dirti la verità, io ci ho fatto una grassa riflessione su questa cosa perché sono stato molto vicino a Meluso in questa conferenza stampa. No, sono stato davvero, siccome qualche conferenza stampa, siccome lui ha parlato di host, qualche conferenza stampa noi l'abbiamo vista e abbiamo partecipato a qualche conferenza stampa, devo dire la verità che avrei voluto dare una grande mano a Meluso che ovviamente ha cercato di ricavarsela in tutti i modi. Probabilmente, ecco, se avessero fatto qualche riunione prima e poi si fossero decisi di fare la conferenza qualche giorno dopo, per lui era meglio. Però va bene lo stesso, voglio dire, a Meluso gli facciamo un grande in bocca al lupo, la sua storia, la sua carriera, la sua esperienza. La sua carriera parla, ovviamente, che il campo è sempre il giudice unico e quindi Meluso ha fatto non bene, benissimo, uomo di campo e poi le scelte di comunicazione sono cose che purtroppo alle quali non possiamo incidere. Gianluca, da quanti anni facciamo questo lavoro? Abbiamo iniziato insieme praticamente? Assolutamente sì, Carmine. Stefano, secondo me tu forse... No, io lì non ero ancora nato. Ah, possiamo dirlo? Assolutamente. Beh, ormai ci abbiamo quasi per i 40, quasi per i 40. Di professione. Sì, abbiamo superato i 35, andiamo quasi per i 40, che è tanta roba, mi fa quasi impressione. Esatto, anche a me, perché la testa è ancora quella. Sì, non so a te, ma mi fa tanta tanta impressione e io me li rivivo tutti, me li rivedo tutti e mi sembra che è l'altro ieri. Noi abbiamo, possiamo dirlo, un fuorionda, ma noi abbiamo ricordato un attimo prima di iniziare una cosa che ha riguardato me e Carmine, che io amabilmente da una vita chiamo zio Carmine e voglio dire cose che come se fossero successe la settimana scorsa. Esatto. No, ma è così, una settimana, scusa, non di più. Qual era questo episodio? Noi in effetti abbiamo iniziato questa professione, questo mestiere, quando è arrivato Maradona, almeno io. Assolutamente. Penso anche tu. Anche io. E quindi le prime radiocronache sono iniziate proprio con l'arrivo di Diego e 1985 eravamo sugli spalti durante Napoli-Udinese che entrambi ricordiamo, non tanto per il risultato, che fu clamoroso, 4 a 3 per il Napoli, ma per il freddo. Pensa che ci fu davvero un'ondata di gelo che colpì tutta la penisola, tutta l'Italia. Alcune partite non si giocarono proprio per impraticabilità di campo, per il gelo, mi ricordo anche a Roma. Invece a Napoli si riuscì ad andare avanti perché all'epoca forse si chiudeva un occhio, forse anche due. Il campo era in condizioni pessime, al limite della praticabilità, come dicevano ovviamente i nostri antichi maestri, però fu una partita incredibile e noi andammo avanti quasi da ubriachi con i borghetti che prendevamo giù senza soluzione di continuità, proprio per cercare di lenire questo freddo che ti entrava nelle osse in maniera allucinante. Anche perché no, c'è un particolare rilevante che va da ricordare. Io e Gianluca facevamo questa radiocronaca con un baracchino, quasi come se fossimo stati dei radiamatori, con un'antenna e quindi dovevamo metterci nella parte più alta dello stadio, quindi eravamo in tribuna laterale all'ultimo gradino e non c'era nessuno, c'eravamo solo io e lui, perché c'era un vento siberiano che faceva paura. Pensate a parlare con il vento, che già di per sé non è semplicissimo, poi con quel freddo ci aiutò la partita con queste quattro cose. 4 a 3. Ma lì eravate autorizzati? No, 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 niente autorizzazione, fughe proprio senza precedenti, inseguimenti vari. Esatto. Carmine può raccontare veramente. Quindi abbiamo scampato l'arresto più volte. C'era sempre l'occhio vigile di Iuliano che vi controllava. E' grandissimo Carlo Iuliano, perché forse all'epoca era visto quasi come un nemico, tra virgolette, ma poi è diventato il più grande di tutti, Gianluca. Io devo tantissimo a lui, ovviamente, tantissimo a lui, la nostra professione passa non solo per esperienza, ma lui sembrava da un punto di vista estetico un po' burbero nei modi, nelle, ma invece aveva un cuore grandissimo. Io ho avuto poi ulteriormente la grande fortuna di lavorare con lui, quando ho avuto l'onore e il piacere di entrare a far parte nel Napoli nel 97. Ho lavorato con lui fianco a fianco, abbiamo fatto una sorta di vero e proprio Vietnam giornalistico e quindi veramente l'esperienza accomunata in quel periodo è impagabile e quindi io lo ricordo sempre con grandissimo affetto. Certo che il centro paradiso di Soccavo era davvero un posto pazzesco, carico di ricordi. Sì, ma ricordo, anche se abbiamo vissuto i momenti davvero poi anche quelli là molto difficili, fino poi al fallimento, ma Soccavo si viveva dalla mattina alle 8, 8 e mezza fino a Sire in Oltrata. Veramente c'era di tutto, a Soccavo non mancava nulla, nulla. La società poteva avere grandi ed enormi difficoltà economiche, tant'è che è arrivata al fallimento, ma da un punto di vista organizzativo era impeccabile. Sì, anche la mensa, lo chef maresca. C'era tutto, c'era assolutamente tutto, potevi fare qualsiasi cosa e mangiare poi oltretutto alle ore 12 e 30, alle ore 19 era perfetto, dal punto di vista di dieta era proprio, a salutare era proprio il massimo. Quindi è un peccato vederlo adesso in quello Stato? Eh no, non è che è un peccato, è una disgrazia, è una disgrazia, ma credo che, non voglio fare il pessimista, Carmelo, non so se siete d'accordo, ma la risoluzione per questa situazione è, non voglio dire che è impossibile, che nulla è impossibile, ma talmente contorta da un punto di vista di titolarità, di diritti, di proprietà, società, banche, che è veramente quasi impossibile, qualsiasi, se senti parlare della politica, dobbiamo adesso cercare di riprendere il centro del paradiso di Soccavo, la politica non può nulla, perché ci sono dei meandri giuridici sul centro del paradiso di Soccavo, inestricabili. È vero, Gianluca tu hai fatto telecronista, giornalista normale, capo ufficio stampa, nel Napoli, anche con Maradona mi ricordo, al Majestic. Mamma mia, quella è stata una delle esperienze più belle della mia vita, noi siamo già dei ragazzi fortunati. Quando venne che girava il film con Turizza, giusto? Sì, sono nell'ascensore. Eh, esatto. Ragazzi, io sono nell'ascensore. Io accolgo Maradona al ritorno da Napoli, quando lui arrivò per la prima volta, arrivò con la figlia, ed è stata una delle esperienze più incredibili. Io ero fuori, invece, tra la folla. L'addio della partita di Ciro Ferrara, che quella fu l'occasione del ritorno di Maradona, furono due giorni più incredibili da un punto di vista di, insomma, di emozioni, cioè vedere, stare in uno spogliatoio con Bianchi e Bicon e fare le due formazioni dei due scudetti del Napoli, avendo di fronte Careca, Maradona, Giordano, Tizio, Caes e Sembrone. Ma io che cos'altro devo vedere, infatti? Cioè, io, nel momento in cui Bianchi e Bicon mi danno le due formazioni, facevo il team manager, devo ringraziare Ciro Ferrara per questa esperienza che mi ha regalato, cioè, arrivava, al di là quando arrivò Diego, però, insomma, arrivare a vedere Bagni, Buscolotti, si sono rincontrati la sera a cena, ragazzi, ma veramente una emozione. C'era pure Ibraimovic, eh, in quella partita. Devo dirti la verità, sì, nella Juve sì. Sì, sì, sì. Ma è vero che lui voleva giocare un tempo con la Juve, un tempo con il Napoli? Non te lo so dire, cara. O fa parte di leggende e metropolitane. Questa non te lo so dire, questa purtroppo non la so, questa non te la so dire. Perché correva quella voce, però poi so che lui cambiò idea perché uscì in campo, ovviamente, con la maglietta della Juventus, si beccò un sacco di fischi e quindi cambiò idea. L'unico peccato, l'unica piccola macchia di quella partita fu l'invasione all'interno allo Stato. Cioè, vuol dire, non potevi fermare. Era come quando il Napoli ha vinto lo scudetto quest'anno, o come l'Argentina ha vinto il Mondiale con un milione di persone all'interno che non potevi gestirle. Cioè, era praticamente impossibile, materialmente impossibile. Eh beh, allora, visto che stiamo ricordando questi momenti storici che secondo me sono indimenticabili, anzi, sicuramente lo so, Pistoia. Vabbè, Pistoia è meraviglioso. Pistoia è meraviglioso. E quando mancavano pochi minuti alla fine c'era un'invasione di Napoletania a Pistoia, in uno stadio piccolissimo, solito fischio, sei, sette minuti prima della partita invasione di campo. Quindi la partita viene sospesa, arbitro Cesari, numero uno senza precedenti, perché se il Napoli viene promosso in serialo deve anche un pizzico a Cesari. Perché succede di tutto, invasione di campo, magliette prese dai giocatori che erano a torso nudo, successe veramente l'incredibile. La Pistoiese va negli espogliatoi e ovviamente vuole entrare per sospendere la partita. Cesare si mette di fronte al giocatore della Pistoiese e ordina in maniera perentoria a tutti, c'era anche tra mezz'anni, ordina a tutti di non muoversi. E quindi la partita si doveva riprendere. I giocatori di Pistoiese protestavano e noi cominciamo un'altra partita, perché noi in sei minuti, sette minuti, con Starace, con Carmando, dovevamo recuperare le magliette che non c'erano, non c'erano le magliette, c'erano i giocatori senza magliette. E quindi cominciamo a prendere magliette di allenamento azzurro, senza numeri. Cioè successe di tutto. Gli appelli, ti ricordi, dalla tribuna. Ferlaino, andò l'ingegnere Corrado Ferlaino a chiedere la cortesia di liberare il campo. Alla fine riuscimmo a portare avanti questa partita, ma nella gioia meravigliosa fu un attimo di terrore puro e Cesari fu determinante in quell'occasione. E la festa negli spogliatoi, dove c'è il video. C'è anche il buon Gianluca. Che bella, bellissima cosa, una cosa meravigliosa. Quelle sono veramente... Sì, anche perché era una squadra che difficilmente aveva i pronostici. Cioè giocatori al di là di Matusalem, su quale potremmo scrivere un'enciclopedia. Svok. Svok e Stellone. Avevamo il problema di Bellucci, che bella in patita tutta la stagione fuori. Poi c'erano Oddo, Miceli, Magoni. Personali, bandieri in porta. Poi Copp. Ragazzi, una squadra veramente... Dove non c'era... E però l'opera di Novellino. Il Novellino fu un grande, è vero. Riuscì a tenere il gruppo tutto unito. Veramente una stagione... Tra l'altro mi ricordo che usciva nelle ore notturne per andare a prendere per l'orecchio in alcuni casi qualche calciatore che tirava fino a tardi. Sì, vi posso anche raccontare che tutte le birrerie, le pennerie e le paninoteche del Napoli avevano il mio bigliettino da visita, che insieme a Mauro Amenta, il collaboratore di Walter, di Novellino, avevano la cortesia che appena arrivavano i giocatori, non faccio i nomi, ma appena arrivavano i giocatori ci facevano un colpo di telefono e guarda caso io verso luna di notte si andava, sono passato di qui a prendere una birra, un panino, che ci fai qui? Mi pare che Matusalemme era uno di quelli che... Matusalemme, da buon brasiliano, Matusalemme, anche la mozzarella... Infatti mi ricordavo questo fatto, proprio l'accostamento mozzarella Matusalemme, quindi ce lo confermi... Assolutamente sì, anche in maniera abbondante... Caserto Battibaglia... Questo non te lo so dire, la provenienza non te lo so dire, però ne faceva buon uso... Tra i tanti incarichi ovviamente è stato anche capo ufficio stampa e lo è tuttora del Napoli Basket... Ma tra tutte queste attività, qual è quella che ti ha gratificato di più, che dici ecco lì davvero ho raggiunto il nostro... Allora, tu mi puoi comprendere, raccontare una partita, ho avuto la fortuna al di là delle nostre esperienze, ho avuto un lungo rapporto anche con Sky, ho fatto la telecronaca di Serie B per tutte le formazioni campane, anche il Frosinone... La telecronaca è con distacco fuori classifica, per chi come noi nasce facendo, io personalmente, le telecronache al decuyus Mario Argento di basket, ho raccontato Walter Berry, ho raccontato... Ho visto cose... Abbiamo raccontato gli scudetti dei Posillipo... Cioè, voglio dire, abbiamo raccontato tanto, no? Visto che sono passati con me, quasi i famosi 40, quindi gioco forza... Quindi la telecronaca è senza proprio paragone la cosa, ovviamente, quella che ti gratifica di più per la quale tu sei nato, sei cresciuto e Carmine ha avuto il merito, il merito finalmente di poter raccontare anche il terzo scudetto, avere avuto questa gioia infinita, un giusto premio alla carriera, una sorta di Davide, di Donatello, voglio dire, di Oscar, però vivere una stagione per chi è appassionato di calcio e viverla all'interno della società andando in panchina, come ho fatto io, come ho fatto io, al di là del racconto che abbiamo fatto di Maradona, ma vivere alcune partite in panchina, un'esperienza quella di Pistola è impagabile, cioè è proprio impagabile, da un punto di vista personale e professionale, è proprio impagabile, per chi, cioè se tu dovevi fare una letterina quando eri piccolino, che cosa vuoi fare? È sensato e esaudito. La facciamo sempre questa domanda, ma tra Ferlaino e De Laurentiis? Beh, tu Ferlaino giustamente lo hai conosciuto benissimo, direi, visto che hai lavorato con Ferlaino, De Laurentiis è così difficile stare al suo fianco? Io direi, possiamo dirlo, io credo che sia impossibile, personalmente, professionalmente nulla da dire, voglio dire assolutamente uno spessore imprenditoriale, quello di De Laurentiis, fuori dalla norma, ma personalmente è molto difficile se non impossibile. Per chi è abituato, ovviamente, ad avere una significativa presenza da un punto di vista aziendale, e chi non lo ha, per carità forse può, mi dicono, chi ha avuto la fortuna di continuare a lavorare, che non è semplice, direi di no. Non è assolutamente semplice, l'ingegnere Ferlaino, i tempi sono diversi, quindi anche il remodare carico. Con Ferlaino era più facile? Non tanto, non tantissimo, tutt'altro, ma potevi gestire la situazione, su Ferlaino potevi gestirla, anche perché poi l'ingegnere nel momento in cui veniva una volta o in albergo o in uno stadio o in una conferenza stampa, era un evento, era un evento, quindi potevi gestirlo, non c'era l'ordinaria amministrazione del quotidiano dove devi essere attento, io immagino i colleghi dell'Ufficio Comunicazione del Napoli, attuale con De Laurentiis, ovviamente non fanno una passeggiata di salute. Anche perché De Laurentiis è molto presente quotidianamente, in tutti i settori è sempre lui. Ieri l'abbiamo visto anche fare entrare i tifusi allo stadio. Farà grande carriera, era proprio il punto subito sul quale... Acuto osservatore. Premesso il fatto che io in tanti, tu hai mai visto una società, però lui lo fa da 15 anni, per carità, quasi se non di più, cioè che fa la sede della società e il ritiro, è il ritiro, cioè quindi vanno a fare, non è la sede sociale che Napoli non ha, o meglio c'è Castelvolturno che però insomma non è proprio la sede sociale, però vanno lì tutti, lì fanno mercato, vengono i procuratori, che ripete, è una cosa che per carità, soggettivamente uno cerca di nascondersi. Per certi versi... No, vai, vai, vai. È la residenza estiva della famiglia De Laurentiis, parlando di Papato. Per certi versi devo dire che lui ha stravolto un po' le regole del calcio, lui che viene dal mondo del cinema, essendo produttore, credo che avevamo un po' tutti, lui li ha messi da parte. Ma guarda Garmi, io su questo, quando dicono il termine però l'accezione positiva del visionario, io lo considero, per esempio, prendiamo un esempio pratico, la famosa panchina lunga è un suo merito, è un suo merito e gli va dato assolutamente atto, così come gli va dato atto molte volte, il problema è che lui, le battaglie tra virgolette politiche, economiche, amministrative che cerca di fare, sono a volte troppo visionarie rispetto alla realtà delle situazioni. Quando tu attacchi l'UEFA con Platini alla vigilia della semifinale, con il Dnipro, tu hai ragione attaccare Platini a Platini. Però forse un po' di diplomazia. Però è così, è una stessa cosa è successa. È successo anche con il Milan in Champions, probabilmente. Speriamo che Malagorio stava distratto. Lui l'ha anche ammesso per certi versi, perché poi in alcune dichiarazioni lo ha fatto capire tra le righe che probabilmente si era spinto un po' in avanti. Speriamo che Malagorio era in vacanze. E sì, perché ultimamente il presidente del CONI si è lasciato andare con la legge Bossi-Fini. Era un amico con Malagorio. Ma guarda che Gianluca, guarda che il presidente è amico di tutto e di tutti, ma quando parte non guarda in faccia a nessuno. Ci sarà anche il problema Coppa d'Africa quest'anno, su cui lui già... Hai ragione. Io su questo gli ho ragione. Perché devono andare... Chi li paga questi giocatori? Le pagano i club? Anche se da qualche anno hanno fortunatamente almeno messo l'indennizzo che hanno le società per il numero di giocatori che riescono poi a collaborare nei vari mondiali europei. Però il danno da un punto di vista sportivo è clamoroso. È anche la seconda volta che succede, no? Esatto, esatto. Però vedi, il calcio poi si basa sui risultati. L'anno scorso a 16 contestazione non poteva uscire fuori dall'albergo. Quest'anno invece... Giro di campo trionfale con il presidente che lanciava i baci e il pubblico che lo applaudiva. È così, questo è il risultato del... Non ci sono proprio sorprese sotto questo aspetto. L'anno scorso abbiamo vissuto due ritiri, prima quello di Di Maro e poi quello di Castelli Sangro, davvero particolari, difficili, molto difficili. Era un ambiente davvero incredibile. E poi, ragazzi, è cambiato assolutamente tutto. Se tu pensi che a Di Maro c'è il record di affluenza di spettatori con una squadra che praticamente non c'è ancora. Stanno vedendo giusto i gonfiabili dei bambini. Sì, arrivano poco alla volta. Sì, i gonfiabili dei bambini. Il bersaglio. Sì, il tiro alla fune. Potenza di uno scudetto. Sì, assolutamente. Dopo 33 anni. Assolutamente, sì. Però è stato bello. È stato bello viverlo in una città che è stata davvero eccezionale. C'erano tante preoccupazioni, tante ansie, però poi alla fin fine Napoli ha dato davvero il meglio di sé. Carmine, hai ragione. Peccato che non ti hanno ascoltato questore prefetto e piminale perché, voglio dire... Troppe ansie e preoccupazioni. No, la castrazione del pullman che non gira in città è una castrazione indimenticabile. Ma secondo te nasce veramente dal questore, dal prefetto? Voglio augurarmi di sì. Va bene. Per cercare di mettermi a posto la coscienza che non ci siano state altre decisioni... Perché io ho qualche dubbio solo, devo essere sincero. Io ne ho anche qualcuno in più di te. Però voglio dire, io devo attenermi a quelle che sono state le dichiarazioni. L'ordine pubblico che... Perché in tutto il paese del mondo fanno il pullman a Napoli, no? Che ha la strada più normalmente tranquilla per poter gestire una cosa del genere che è il lungomare di via Caraccio. Cioè, voglio dire che esci dalla grotta e ti fai il lungomare di via Caraccio e hai una gestione, ovviamente con grande attenzione, ma a sinistra le ali della... Ragazzi, è stata una cosa che non si può dimenticare. Non si può non dimenticare. Cioè, è stata una macchia. Io sono d'accordo con te. Che non incide su quello che hai detto tu, sulla meraviglia in assoluto. Però è stato un peccato di Dio. Molti non hanno potuto viverla. E chi non era allo stadio... Anche se chi era allo stadio ha qualche cosa di audio, non ha sentito. Però voglio dire... Il pullman è pullman. Il pullman è ormai storia. Lo fecero per la Coppa Italia, la prima che abbiamo vinto. Quindi è stato un peccato non farlo per lo scudetto. Era nazionale di Bonucci e Chiellini, dopo gli europei. Se non sfilavano il pullman, se ne tornavano a casa. Esatto. E a Roma mi pare che... Non è che ci fossero poche persone. Qualcuno poteva fare la stessa cosa anche qui. Hanno pubblicato tanti libri. Stanno pubblicando tanti libri, ovviamente, sullo scudetto del Napoli. E c'è chi anche, ovviamente, ricorda quelli di 33 anni fa, ancora prima. Secondo te, l'ultimo è il più bello, come al solito? Oppure, invece, il primo... è insuperabile. Noi siamo fuori da questa valutazione. Non possiamo noi essere assolutisti in questo giudizio. Però li abbiamo vissuti tutti e tre. Abbiamo vissuti tutti e tre. Lui non c'era. Troppo piccolo. E quindi, voglio dire, è normale che lui abbia un particolare legame con questo, vissuto, eccetera. Però, siccome non eravamo neanche tanto piccoli noi, quando c'è stato il primo scudetto, poi forse siamo anche un po' cresciuti, no? L'emozione è diversa. È diversa. È diversa. Tu, giustamente, hai potuto anche raccontarlo in diretta, quindi il trasporto emozionale, emotivo, è stato pari, probabilmente, a quello passionale vissuto nel primo, nel secondo scudetto. Io individuo le tre cose. Il primo scudetto è l'esplosione, no? È la bomba atomica dell'amore, no? Su quella che è stata di tutta la città, di Maradona, eccetera. Il secondo è quello là della guerra, del duello sportivo, ovviamente, con il Milan, perché lo scudetto il Napoli non lo vince in casa al Sampano, l'ultima con la Lazio, ma lo vince a Bologna. Certo. Lo vince a Bologna quando Sotomayor e Pellegrini segnano il 2-1 con il Milan. Sì. Quello è stato, cioè, è stato esultare, era più al gol del Verona che rispetto a quello che faceva il Napoli, perché il Milan in quel momento le magliette, le espulsioni hanno sputato in faccia a Rosario Lobele, cioè, è successo il Dupan Basten, Rijkaard, cioè, quello è stato proprio la, e poi il terzo della sorpresa. Sì, forse quest'anno è mancata l'avversaria, perché in quell'anno L'hai diluito nel tempo, no? Però, bisogna dire che questo Napoli targato Spalletti ha costruito qualcosa di unico, forse, nella storia del campionato italiano. I record parlano per sé, peccato nel finale, diciamo così, abbiamo levato il piede all'acceleratore, giustamente, se no potevano esserci record ineguagliabili, però, insomma, li abbiamo distrutti, ma proprio distrutti, non c'è stata partita, non c'era partita in cui tu andavi a vedere una partita con tensione. L'unica tensione l'hai vissuta in Champions League. È vero. L'hai vissuta in Champions League perché una serie di situazioni ti è andata per il verso storto. La partita più importante dell'anno, nella stagione, l'hai vissuta con il Napoli, che era al più basso livello di forma, condizioni e situazioni, e guarda la sfortuna, è che tutti dimenticano che noi a Milano siamo andati a giocare con Elmas, centroavanti, senza i tre attaccanti, ragazzi. Stavamo anche agguantando il pareggio negli ultimi minuti. È il miglior arbitro del mondo, non ti ha dato il calcio di rigore, non andando al VAR, perché poi non sapremo mai, ecco perché, ecco, un'altra delle battaglie sulle quali si deve assolutamente, è quella di sentire il VAR tra arbitro e VAR. Quella è una battaglia per me, io scendo in piazza pure io. Io voglio sentire quello che si dicono. Assolutamente d'accordo. La trasparenza è l'unica cosa che può migliorare nel calcio a questo punto. Te la ricordi, Carmelo, fu Torino-Inter che è successo uno scandalo, si è sentito dopo tanti giorni, e hanno detto che ovviamente sbaglia il VAR, che dice, no, il rigore, il rigore, però io almeno lo sento. E infatti. Perché lo sentito soltanto una volta? Nel rugby succede tranquillamente. Adesso anche nell'Eurolega di basket. Esatto. Primo piano, come stiamo noi adesso, primo piano con il microfono, l'arbitro si dirige nelle confronti della telecamera e spiega, dice allora il fallo è così e così e così per questo motivo. E lo spiega. E mi pare che anche nel basket ci possono essere delle interpretazioni particolari. Assolutamente. Lo spieghi, ho fatto l'intenzionale per questo motivo, e poi ti prendi le tue responsabilità. Ma io perché non devo, al di là degli audio rubati o inesistenti tra Valerio e Orsato del 2018 e chissà in quale meandri sono riposti. Esatto. Però voglio dire, io devo sentire il VAR tra il Mercini e il VAR. Sì. L'audio tra il Mercini e il VAR lo voglio sentire. Voglio capire perché il Mercini che non è andato a vedere l'audio. Eh sì, quello rimarrà per sempre un dubbio. Osimane, nella seconda parte della stagione è stato davvero qualcosa di sconvolgente, è stato l'uomo trainante di questo Napoli, perché invece nella prima parte la sensazione è che si potesse fare anche a meno di lui, perché c'erano Raspa, lo stesso ciolito Simeone, che ci pensavano a fare gol. Invece nel girone di ritorno mi sembra che si sia preso lui il Napoli sulle spalle e abbia dato davvero un contributo. Tant'è vero che in questi giorni, Gianluca, tutti dicono se dovesse rimanere Osimane anche per l'anno prossimo, il Napoli rimane la squadra da battere che può vincere lo scudetto ancora una volta in carrozza. Ma con distacco. Anche tu sei convinto di questo. Insomma, per meno c'è Osimane... Al di là di Kim che è andato via. Sì, io credo assolutamente che sia stato devastante Osimane, un giocatore che come raccontava Spalletti ti poteva consentire una serie di soluzioni avanti e ti metteva il terrore nelle difese avversarie. Cioè, Osimane ha avuto anche un miglioramento tecnico importante. Esatto. Anche in questo dobbiamo ringraziare Spalletti perché con dovizia di particolari a fine allenamento si è messo più volte nel corso di questi due anni di sua gestione con i suoi collaboratori a lavorare su Spalletti, su Osimane, quindi con tecnicamente il controllo, e quindi Osimane è cresciuto, è cresciuto tantissimo, il famoso per e per di Osimane. Cioè, il famoso per e per è venuto un po' a scemare, no? Perché Osimane ha fatto i gol realizzati da Osimane quest'anno al di là delle sue giocate. Ne cito due su tutti, quello con la Roma fatto al Maradona e con la Roma fatto all'Olimpico. All'Olimpico. i due gol con la Roma di Osimane. Poi lasciamo vedere l'elevazione di testa che quella è un atleta non solo prestato al calcio, ma è tutto, ha unito queste... Perciò De Lorenzo vuole il duecentino. Infatti, secondo te Quara, io aggiungo anche Quara, poi magari è un capitolo a parte, ne parleremo dopo, e Dosimane possono quindi supplire all'assenza di Spalletti, di Giuntoli, di Sinatti, il preparatore atletico? Su Sinatti non mi voglio esprimere, di Formisano, cioè tutti quelli che sono andati via, insomma anche in altri settori. Su Sinatti farei un capitolo a parte perché è talmente tecnicistica la cosa, talmente particolare che io non posso giudicare, noi giudichiamo quelli che sono stati fatti con Sinatti, preparatore fisico, tutto opposto. Però non possiamo capire... Io non posso sapere, ovviamente, Ricorongoni per dire Carmine Martino, Gianluca, Tizio, non lo so perché non è un argomento di nostra competenza. Questo è vero. quindi io devo... Però forse rappresentava una certezza. Quella era una certezza. Mi ha sorpreso, anche se io però rispetto nella delucidazione che ha lanciato Garzia che ha offerto a Sinatti una sorta di pari titolarità, non nella gestione, però sai, in quel caso... Io lo sai, mi metto anche nei panni dei Sinatti, non sarebbe stato facile. a cui in questi casi ci vuole... bisogna avvocare a sé il potere decisionale sulla gestione della preparazione fisica, quindi la vedo difficile. Spalletti... Spalletti ha fatto un miracolo, Spalletti ha fatto un vero e proprio quadro, ha fatto un dipinto. Spalletti è uomo di campo, Spalletti è uno che ha... io ho individuato, l'ho detto in un'occasione, ho individuato l'anno scorso uno dei motivi principali dell'annata clamorosa del Napoli a Castel di Sangro quando davanti a duemila persone interrompe l'anamento e caccia fuori Osimè. Quando lui interrompe l'anamento davanti per la partitella e manda fuori... Sì, sì, ricordo. ...manda fuori Osimè lui in quel momento ha detto io qua comando io. Cioè, non è che ha cacciato con tutto il rispetto tizio, cazzo sempre, però non faccio l'anno. Ha preso Osimè nella madonna degli spogliatori. Che era troppo nervoso. In quel momento ha detto io sono il totem, cioè qui comando io. E là ho visto, secondo me, l'inizio, proprio l'origine del grande successo. Vabbè, sì, hai ragione. Avevo detto di Quaraschelia. Secondo me l'anno che sta per arrivare non sarà semplice per Quaraschelia. Capiremo finalmente se veramente è da pallone d'oro come qualcuno giustamente pronostica. Io dico giustamente. però lo capiremo l'anno prossimo perché il Milan con Pioli ha fatto capire che si possono anche triplicare le marcature su di lui. ormai lo conoscono. Lui dovrà inventarsi qualcosa di nuovo così come del resto anche Garzia magari con delle nuove strategie per fare in modo che questo calciatore riesca ad essere determinato come la mosca. No, modulo no. Però qualcosa dovranno inventarsi. Anche se però mettere tre giocatori su Quaraschelia significa lasciare spazio agli altri. Questo è vero. spazio c'è Osimène voglio dire dall'altra parte c'è Osimène e sì in effetti l'ultimo periodo l'abbiamo visto non in difficoltà ma sicuramente molto più attenzionato questo mi pare anche lui. il Quaraschelia dei primi tempi dal punto di vista fisico aveva un po' di stanchezza non era brillante come all'inizio devastante anche lui veramente devastante l'inizio di campionato di Quaraschelia è stato io credo che nelle nostre piccole produzioni io senza proprio discussione ma credo che abbia vinto anche altre classifiche più importanti il gol con l'Atalanta di Quaraschelia mamma mia il gol dell'anno lo considero lo considero il gol dell'anno non so se siete d'accordo sì sì è qualcosa di straordinario l'ha definito come il gol più bello dell'anno non c'è storia non c'è storia un gol straordinario ed è siamo partiti così guarda il calcio come è bello la sua meraviglia è l'unico gol dopo anni e anni che può equiparare come emozione come come ha trascinato la gente che si è alzata dai sediolini o davanti o sui divani in trevisore ecc è quello che faceva Maradona Diego cioè quel gol quel gol quella tipologia di gol io l'ho considerato più vicino in assoluto è vero sì sono d'accordo con te qualcosa di simile è successo anche a Reggio Emilia quando ha segnato il gol contro il Sassuolo assolutamente quella finta iniziale a centro campo e poi quello slalom che lo ha portato fino alla conclusione è stato bellissimo ma quello con l'Atalanta sicuramente è di un altro livello i giocatori che scivolano è una terra che si parla da una parte l'altra è proprio è il massimo dell'orgasmo sportivo voglio dire vedere una cosa del genere quindi tu pensi che si ripeterà Quora Schemi ha grandissime potenzialità ha grandissime potenzialità c'è un giocatore che arriva non dico quasi da perfetto sconosciuto anche se io mi ero divertito lo scorso anno nella mia che tu ben conosci sorta di malattia sul calcio internazionale lo so infatti eccetera io avevo visto le partite nel campionato di Giorgiano con la Dinamo Batumi Batumi sì e mi sono divertito perché l'ho mandato spesso in onda cioè quindi non mi aveva completamente sorpreso la curiosità era ma quello che io sto vedendo esatto nella Dinamo Batumi lo rivedo qui esatto e l'ho rivisto ed è quello che ci chiedevamo io sono abbonato a Wisecout e quindi riesco più o meno a vedere vita, morte e miracoli di quasi tutti i calciatori le giocate le azioni più interessanti e mi ero reso conto che era davvero molto forte però sai dal punto di vista dell'ambientamento un calciatore che viene da un altro mondo perché la Georgia è un altro mondo sarebbe riuscito ad ambientarsi facilmente a Napoli in uno stadio come quello di fuori grotta la sua tipicità secondo me può aver aiutato il fatto che lui almeno speriamo che continui così non c'ha un tatuaggio vive con la mamma esatto sembra proprio una sorta di alieno sceso in terra e quindi ci auguriamo che questa sua particolare tipicità gli possa regalare una cosa anche questo il personaggio che si è costruito che è così di una spontaneità e quando ha subito il furto in casa è stato male male è stato male 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 quasi lo hanno supportato anche da un punto di vista psicologico è vero quello ha segnato anche un po' la sua stagione il periodo in cui ha giocato di meno la lombalgia eh sì al di là del problema fisico lombalgia si lombalgia ci dicevano lombalgia ci dicevano tante leggende metropolitane che correvano certo era un po' strano pensare che un ragazzo di vent'anni potesse avere un problema alla schiena per tanti mesi ci sta voglio dire ci sta questo è vero però ufficialmente quello è stato non riesco a capire quale potesse essere il problema fortunatamente ha risolto anche quello fortunatamente perché si è ripreso alla grande e vedremo io sono molto curioso di vedere come si comporterà la schiena l'anno prossimo ho la sensazione che comunque in Champions riuscirà più facilmente a lasciare l'impronta sua sì mi disposto soltanto che avevo trovato il mio rigorista preferito era così come ci ho perso scene senza ho detto che in questa situazione allucinante che non abbiamo il rigorista che non abbiamo il rigorista ufficiale ragazzi il rigorista è quara schiena non si discute se me ne sbaglia tre di cui due in Champions quello fondamentale col Milan due in Champions uno con la Giorgio campionato europeo tre consecutivi ne ha sbagliati come va sul dischetto un'altra volta infatti forse abbiamo trovato un punto debole non fate andare ossimente sul dischetto meglio di no per la classifica pananera alla fine giustamente voglio dire perché si menna sul piedone l'africano è proprio da cuore per l'aria da coronarie infatti Napoli stava trattando Kamada giapponese che invece molto bravo a battere i rigori però pare che si è saltato non solo col Milan ma anche con anche Orsolini non era male esatto Orsolini Orsolini punizioni calcio d'angolo e rigori non abbiamo né il rigorista né il punizionista si dice a proposito ma tu che sei un attento osservatore anche del calcio internazionale europeo soprattutto ecco il fatto che non si riesca a piassegnare su calcio di punizione non è un fatto soltanto del Napoli e della Serie A e non c'entra il coccodrillo sono d'accordo con te cos'è il pallone che è troppo leggero le barriere che sono troppo l'unica cosa è che il coccodrillo consente a tutti risaltare esatto e adesso siccome diciamo la grande maggioranza delle squadre hanno giocatori di grandissima fisicità anche come statura diventa più difficile diventa più difficile poi provi si sta provando sempre la soluzione a giro mentre la famosa botta o cagliosa come diceva il nostro amico Bruscolotti non la prova quasi più nessuno che è un'altra delle soluzioni che si potrebbe anche provare la famosa cagliosa quindi non è una questione legata soltanto al Napoli ma mancano gli specialisti sì è vero le punizioni alla Baggio il Maradona il Baggio non le vediamo più non ce ne sono tantissime se dovessimo menzionare un nome di un calciatore bravo l'ultimo è stato Verdi esatto Verdi era bravo destra e sinistra esatto poi appena è bruto a Napoli si è stirato non ha fatto niente ma a quanto pare Verdi è uno di quei calciatori molto bravi tecnicamente ma che evidentemente soffre molto ansia forse Coppemainer dell'Atalanta ha fatto qualche gol su punizione quest'anno infatti si parlava anche come eventuale sostituto di Zinischi non sarebbe male Coppemainer a me piace molto anche a me però come ruolo forse non è proprio Zinischi però dalla Z Alcmar arriva questo Reynolds del Milan che arriva proprio domani che non è male esatto te lo dico sì 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 così come ho visto Oliund con l'Atalanta l'avevo visto in Austria Oliund fortissimo questo a Reynolds non è male il Milan che deve cambiare completamente il centrocampo tutto l'ha perso tutto se era infortunato Brian Diaz Tonali eccetera prende questo Reynolds che non è male a me piace Gabri Vega io credo che tra gli emergenti tra i ragazzi giovani di grandi possibilità potenzialità per il Napoli è solo senso sì sì lo so infatti in questi ultimi giorni il nome più ricorrente a me piace tantissimo sì lo ha chiesto tecnicamente una garanzia io l'ho visto in Spagna ha fatto sempre campionati pazzeschi non so perché col Tottenham non si sente lui ha lui ha un po' è un po' come Zeleneschi lui ha propensioni più offensive gioca anche da centrale gioca anche da centrale è un sinistro è un classe 96 a me piace molto lo Celso molto molto forte tecnicamente forte tecnicamente forte e questa sorta di abitudine di aver trattato con il Tottenham per tre anni diversi con il prestito potrebbe aiutare ma il Tottenham dice ma basta ora devi fare l'obbligo di riscatto perché se no ha inghissato l'hai preso Don Beleci l'hai restituito che vuoi fare con lo Celso tu ti aspetti quindi una campagna acquisti buona da parte del Napoli come sempre del resto non ha mai tradito le attese non c'è dubbio alcuno io siccome credo che la scelta più particolare sia quella del centrale su quale sono passati ormai un po' di tempo ma noi il nome non lo conosciamo noi sappiamo che il Napoli sicuramente come obiettivo principale su Kilman cioè Kilman è il giocatore che risponderebbe di più alle esigenze del Napoli però la trattativa è molto difficile con Wolverhampton molto molto difficile le squadre di Premier ovviamente non hanno problemi economici e quindi noi non sappiamo dove alla fine andrà il Napoli e gli altri due barra tre acquisti che il Napoli deve fare uno è sicuramente l'alternativa di Di Lorenzo sembra che abbiano messo gli occhi su Faraone che è un giocatore sicuramente affidabile molto affidabile però giustamente García ha detto fammi vedere un po' Struzanori come ha fatto molto bene con la Sampdoria non ve li vediamo che cosa succede con lo Celso e poi dobbiamo capire che succede con Demme che cosa succede con Lozano cosa succede con le Zilischi là purtroppo dipende da quello che accade sì io credo che poi alla fine Zilischi possa anche rimanere Lozano probabilmente quello è tutto da verificare Zilischi va a scadenza hai sentito Zilischi rimarrebbe molto volentieri però ovviamente dovrebbe abbassarsi il crollo se fosse vero non lo sappiamo se fosse vero che la Lazio gli offre quanto prende adesso sarà dura Zilischi sarà pure la luce nei nostri occhi però Zilischi dice scusate infatti anche perché poi andrebbe a Roma nella capitale con Sarri che poi il tecnico che lo ha valorizzato la trattativa tra De Laurenti e Lotito mamma mia vorrei assistere la verità è una cosa pagherei ma ultimamente Lotito mi pare che però una frecciatina a De Laurenti dopo che hanno festeggiato insieme il compleanno te lo ricordi anche con i danni che hanno fatto con la bottiglia di champagne De Laurenti e Lotito e sì ha detto ma perché De Laurenti si dice sempre che il calcio italiano vale poco esatto Lotito e De Laurenti ragazzi non è male una bella scelta intanto vedi come è strano il calcio alla fin fine gli imprenditori puri nel senso che fanno gli imprenditori del calcio sono quelli che stanno ottenendo i maggiori risultati rispetto ai fondi ai gruppi americani oppure multinazionali bisogna fare i complimenti in questo ecco torniamo al discorso imprenditoriale in questo chapeau nulla a questi da un punto di vista gestionale alla fine a medio lungo termine ma loro sono loro quelli che hanno ottenuto il massimo investendo il giusto senza sprecare anzi traendo anche dei profitti non so sono sprecate le lodi per l'aspetto gestionale sia del Napoli ma anche della Lazio non hanno debiti hanno ridotto gli ingaggi prima e secondo in campionato e ragazzi che cosa gli vuoi dire? infatti perché prima che diventasse SPA il calcio ovviamente i presidenti venivano presentati come dei mecenate però poi invece sfruttavano il calcio per la loro immagine per gli appalti per costruire palazzi nel caso di Ferlaino e tutto il resto Moratti è stato un altro degli esempi clamorosi ha spesso dilapidato cifre fuori all'epoca del Ronaldo il fenomeno con i vari recobba ed è stato forse uno dei pochi che però ha speso tantissimo perché gli altri comunque un tornaconto poi alla fine lo hanno avuto lo avevano ma perché lui era molto tifoso della squadra voleva forse emulare anche il papà per certi versi e io voglio prendere come spunto la Lazio che ha appena venduto Milinkovic Savic noi abbiamo secondo voi vinto uno degli ultimi scudetti appartenenti a un'era che sta per cambiare diciamo questo mercato arabo questi soldi questo doping dalla rabbia io credo io credo che le società devono fare delle feste perché la rabbia sono tutte in grande difficoltà tranne appunto il Napoli e il Lazio e siccome prima la tipologia non so se si è raccorda la tipologia di questi sorti di investimenti in America erano sui giocatori a fine carriera adesso loro stanno facendo uno studio e vanno a prendere quelli in scadenza di contratto hanno fatto un passo avanti prendono quelli in scadenza di contratto siccome quelli che stanno in scadenza di contratto difficilmente trovano poi gli accordi adesso con le società ma per le società meglio perderli a parametro zero oppure venderli a questi arabi che vengono a dare un po' di linfa sì dal punto di vista sportivo tu hai ragione cioè voglio dire hai ragione quest'anno se ne vanno Benzema Kanté giocatori in Porto Brozovic quindi giocatori ancora da un punto di vista quasi nel pieno però voglio dire se io devo cedere Lozano facciamo l'esempio Lozano ma scusa se mi vengono a dare 10, 15, 20 milioni dall'arabio ma per il Napoli non è invece di perdere la parametro dico il Napoli per dire ogni altra non so se sei raccordo no 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 ma infatti c'è triste però c'è chi forse sta criticando un po' troppo ma se c'è un altro continente che vuole ovviamente investire nel calcio e dare il proprio contributo credo che sia giusto poi magari si vedrà se il calcio europeo sarà sempre migliore esatto bisogna capire se è solo ecco un fuoco di paglia un tentativo che poi salterà come è successo in Cina io credo che sia diverso stanno facendo molto il parallelismo Superlega e campionato arabo nel senso il campionato arabo sta creando una sorta di Superlega così come era stata concepita da c'è un particolare dalle squadre europee sempre nelle mie maniacali approfondimenti sono andato a vedermi il campionato arabo allora premessi il fatto che tu non puoi dire che squadra giocano perché i nomi sono impronunciabili molto simili poi tra l'altro tra loro meglio che non lo faci fare una brutta figura meglio che non lo dici proprio detto questo abbiamo anche scoperto che molte di queste squadre sono 16 nel campionato di serie A ma ho scoperto che c'è anche la serie B dove sono 20 squadre in serie B non ti dico i nomi delle squadre serie B perché sono spettacolari ma molte di queste squadre appartengono soltanto a 5-6 proprietari esatto che ne tengono 5-4-5 quando giocano ragazzi in questo momento mi sembra veramente c'è proprio altro che Superlega è fantacalcio non è Superlega mi prende a questo mi prende a quest'altro poi quando giocano conto che fa faccio riposare a uno se serve che gioca a quell'altro che il proprietario è lo stesso guarda che non è uno scherzo da poco per te la Premier rimane sempre il campionato numero uno sì e il mio Liverpool lo sai lui ti fa per i mezzi io invece per il City ma non perché ora il City c'è Guardiola o chissà che ho avuto sempre un debole anche se però ovviamente il Liverpool rappresenta il calcio britannico e anche io ovviamente quando vedo in campo quelle squadre me le seguo e faccio sempre il tifo anche io un po' per il Liverpool siccome siamo cresciuti con Keegan e con Dolglish non può essere altrimenti è impossibile con le partite del campionato inglese che quando vedi la nebbia e il fiato dei giocatori cioè quello è proprio il massimo la prima volta che sono andato a Liverpool per la partita del Napoli sono stato male perché veramente troppe emozioni per chi da bimbo sognava e sembrava impossibile andare a Liverpool perché all'epoca i viaggi non erano così semplici come al giorno d'oggi è stato davvero il coronamento di un sogno sentire il you'll never walk alone certo ah quello è stato un altro sì l'immagino sia bello bello io direi è estasiante l'unica cosa che farei è andare a prendermi clop con la macchina eh magari non è l'unica cosa che io farei molto bene andare con la macchina a Liverpool tutti i sacrifici intanto devo essere sincero l'ultima partita che si è giocato che il Napoli ha giocato a Liverpool è stata quella che mi rimarrà per sempre nel mio cuore parlo del Napoli di Ancelotti perché ecco lì proprio ho coronato al mille per mille il sogno di una vita perché quando io ero ragazzino sentivo i Pink Floyd c'era un pezzo Fearless dove c'era che finiva proprio con you'll never walk alone dello stadio e io entro allo stadio non riesco neanche a raggiungere la mia postazione c'era ancora poca gente che parte praticamente la musica dei Pink Floyd il pezzo dei Pink Floyd lì privi di di freddo mi sono commosso ci credete ma è giusto che sia così il caso per me è quello ma chi è che ha vissuto come noi qualche anno di esperienza da appassionati da professionisti unire le due situazioni al massimo della vita quando arrivi in prossimità della Copse e senti quell'odore particolare dei Wurstel di Salsicce è qualcosa incredibile la stessa cosa quando ho raccontato l'esempio della panchina che fa il gol che salva il Napoli dalla serie B Montezini e ti viene abbracciato in panchina esatto che altro che cosa c'è di più da un punto di vista intanto Montezini è uno di quei calciatori che hanno lasciato il segno nel Napoli anche se poi non è che sia stato un grande calciatore era il Napoli sofferente dei Vidigal dei Montezini dei Marcolin di quelli là che in una situazione veramente drammatica ragazzi veramente drammatica l'anno il secondo anno di De Canio avevamo un presidente che ebbe una sfortunata vicenda giudiziaria un amministratore del tribunale giudiziario parli di Corbelli no? si parli di Corbelli c'era l'amministratore Minervini se non ricordo male l'amministratore e insomma eravamo e se e quello è un anno in cui al Napoli hanno scippato la Serie A sfiorò la Serie A l'hanno scippata cioè l'affare Empoli sul quale potrei raccontare quella partita con la regina incredibile 80.000 persone con 4 gol mangiati 1 a 1 ma comunque l'Empoli squalificato il suo medico per irregolarità dell'antidoping e l'Empoli non ebbe nulla vabbè altra storia cose strane che succedono nel mondo del calcio da quando mondo è mondo però intanto rimane sempre lo sport che ci fa dannare e piangere dalla gioia che condiziona influisce determina le nostre scelte di vita i nostri modus vivendi bisogna prima vedere quelli che sono i calendari con gli anticipi e i postici e poi regolare le nostre giornate ti ricordo che venne un periodo in cui rassomigliavi a un calciatore straniero del Napoli tutti dicevano che eri proprio tale e quale tern nordico eh sì era un calciatore nordico tutti c'è dei ricordi penso quanti campionati abbiamo visto penso quante volte abbiamo risultato e quante volte abbiamo sofferto più sofferto che eh bene nell'ultimo periodo ci siamo un po' rifatti infatti l'era de Laurentiis bisogna dargliene atto dai abbiamo visto anche Mattolini io ho visto Mattolini ho visto tirare un ombrello a Perugia in trasferta con mio padre hanno tirato un ombrello a Mattolini a Perugia gli hanno tirato un ombrello queste sono scene che non si dimenticano eh beh dici Perugia e mi viene in mente uno scudetto gettato via al vento per un autogol del grande Moreno Ferrario però al San Paolo è successo al primo minuto di gioco 1 a 0 di quella partita però si ricorda il litigio di Pellegrini con il palo che non riusciva a buttare la palla dentro che prese il palo tre volte era vicino al palo e non metteva la palla dentro pensate quando il destino è segnato ebbè quanti Napoli fa è vero hai ragione ne abbiamo passate le hai visti tutti ne abbiamo veramente visto nell'alto nel basso la magica che però ha perso lo scudetto con il Napoli più forte di sempre quello della magica che però ha perso lo scudetto nel finale drammatico di quel campionato insomma le abbiamo viste tutte le possiamo raccontare scrivere anche la partita che però non dimenticherai mai più Napoli-Juventus il terzo gol di Rennica ai supplementari Coppa UEFA la Coppa UEFA con Rennica se non sono ci sono stati morti sullo stadio in quel momento gente che si è persa a 20 gradoni sotto il gol di Rennica al 120esimo se non è caduto il San Paolo in quell'occasione io ripeto siccome ne ho viste io credo che in assoluto poi tu ti puoi ricordare giustamente il famoso primo tempo di Napoli Real Madrid il gol dei campioni Francini ma il gol di Rennica l'esplosione atomica di gioia di quel gol supplementare al 120esimo è irripetibile per me è quella più brutta invece proprio da dimenticare tu hai ricordato quella del Perugia ai tempi però credo che noi con la partita persa con il Milan dove perdiamo lo scudetto con il Milan credo che quella sia ricordata proprio per la sua valenza anche c'è uno scudetto perso hai perso lo scudetto e poi fu due anni dopo c'è stata la grande rivincita per carità tra le campionate e Coppa UEFA è stato il massimo quella Coppa UEFA l'abbiamo vissuto siamo andati dovunque a Monaco Stoccarda Torino quest'anno peccato il rammarico di quest'anno della Champions perché se parli proprio di esplosione spero che abbiamo il tempo di poterla raccontare se parli di esplosione quando ci sono stati i sorteggi dei quarti di finale che ho vissuto in strada ero in strada a faccende personali ho sentito la città esultare al sorteggio come se avesse il Napoli segnato un gol per vincere lo scudetto cioè fu un boato alle ore 12 io invece non ero d'accordo Gianluca io non ero d'accordo ce l'hanno rinfacciato anche il risultato sì però c'era un motivo tecnico perché nelle altre due palline c'erano il City e mi pare il Bayern se non sbaglio e c'era il Milan quindi tra le due e tu in quel momento posso capirlo però però io avrei preferito altri avversari magari il Benfica che però era temuto in quel momento perché giocava molto 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 bene poi è crollato nel finale Gianluca noi abbiamo parlato anche del passato però io devo parlare anche di un'esperienza l'ultima che secondo me è tra le più belle che tu abbia mai fatto è vero che per esempio come l'ultimo scudetto forse il più bello non lo so non abbiamo già parlato però questa ultima esperienza radiofonica tua ogni mattina su Kiss Kiss Napoli è diventato un appuntamento proprio imperdibile io per esempio tra l'altro combacia con l'orario in cui vado in redazione e quindi non posso esimere dal seguirti ti ringrazio di cuore Carmine perché hai colto una cosa che è andata sicuramente oltre le più rose aspettative e previsioni cioè veramente il bar dello sport nasce per una felice intuizione del nostro editore del direttore Walter De Maggio e nasce questa voleva essere un approfondimento giornalistico e in un amen è cambiato tutto è diventato un appuntamento dove chi entra racconta il suo pensiero proprio come si fa al bar dello sport ma giocata male Kiss ma Kiss è buono e Kiss non è buono e poi ci sono creati personaggi veramente che io non conosco momenti di puro cabaret che io non conosco io mi sono immediatamente immedesimato in questo nuovo mood che mi fa divertire da impazzire veramente mi fa divertire mi diverto la mattina non vedo l'ora di cominciare a capire chi chiama e che cosa dica e storie anche belle forti importanti personaggi ribadisco che io non vorrò conoscere io non ne conosco uno di quelli che chiamo è vero sì sì non ne conosco ve lo posso garantire non ne conosco uno e non li devo conoscere cioè devono rimanere in quest'area di mistero meraviglioso sì sì infatti è una via di mezzo tra alto gradimento la vecchia trasmissione di Arvore e Boncompagni però riportata nel mondo del calcio dello sport a Napoli e quindi riesci a capire l'umore del tifoso dopo quanto è successo magari il giorno prima o la sera dopo la partita e tutto il resto la corrente di pensiero e nello stesso tempo ti fai anche quattro risate perché ci sono dei personaggi che sono uno degli episodi più divertenti che è capitato con uno di questi personaggi assurdi allora c'è un personaggio che io voglio nominare perché quando arrivi a fare una produzione dove chiamano per fare l'imitazione del personaggio che chiama significa che questo ha raggiunto un momento da popolarità sono due giorni che ha mancato di intervento che poi non viene come capita e la gente dice che è successo perché non interviene e lui fa delle hit che sono diventati dei tormentoni esatto lui fa delle hit ogni giorno una canzone voglio dire quando Giunto è andato via lui con Annalisa ha fatto ho visto Giunto le che bacia Agnelli ho visto Giunto le che bacia Agnelli cioè è diventata è su Elmas ha fatto lo metto di qua Elmas con la canzone famosa di Massimo Salvi era la macchina Elmas lo metto di qua sì lo metto di là no e lui fa queste canzoni lo botto che l'ha fatto Mon Amour lo botto che ha fatto Mon Amour cioè ragazzi è una cosa veramente incredibile lui studia la notte per fare queste cose e vengono fuori questi pezzi di Antonio del Bosco Reale clamorosi perciò è bello questo lavoro assolutamente sono queste cose che poi ti riconciliano con tutti i sacrifici che uno fa esatto e perciò resistiamo da quasi barra 40 anni 38 barra 40 anni perché la voglia ce n'è sempre di andare avanti guai se non fosse così se a te comincia a stancarti una cosa del genere anche col basket uh basket una partita di basket all'ultimo secondo è un'altra delle emozioni impagabili assolutamente impagabili ma il futuro del Napoli Basket è cambiato tutto è cambiato tutto si lotterà per retrocedere oppure invece ci auguriamo che sia un campionato più tranquillo è arrivato un nuovo amministratore delegato un nuovo responsabile della tecnica e un nuovo coach coach della Polonia che è arrivata quarta agli europei una grande sorpresa infatti il primo acquisto che ha voluto è stato Sokolowski che è un suo uomo un suo pretoriano speriamo di ritornare a rivivere grandi pagine di basket l'ultima stagione la Repubblica è stata eccezionata 4.000 persone fisse a Palabarbuto hanno contribuito alla servizia spero di ritornare all'epoca Maione c'ero quasi sempre non ne perdevo una ora per motivi di lavoro ovviamente non riesco a conciliare tutti gli eventi perché io e Gianluca ai vecchi tempi si faceva la corsa la famosa andava via a piedi si giocava allo stadio con Napoli 16 e 15 finiva la partita 16 e 20 poi a piedi si faceva via alle Kennedy si andava al Mario Argento De Cuius Mario Argento De Piano presidente De Piano a vedere il basket noi siamo cresciuti a pane pallone basket calcio e tutto il resto grande Gianluca mi ha fatto molto piacere trascorrere questa oretta insieme a te anche a me tantissimo abbiamo rivissuto anche belle pagine dello sport napoletano ma nazionale direi perché lui ne ha scritte ha contribuito a scriverne quindi grazie a voi abbiamo fatto delle belle cose poi per me non è assolutamente piageria in questo nostro ambiente che non è semplicissimo ci sono pochissimi punti di riferimento e pochissime certezze e zio Carmine Martino fa parte della mia vita è troppo buono lo stesso vale anche per me Stefano ciao ringraziamo Gianluca grazie di essere stato con noi grazie a te Stefano e complimenti per questo format molto 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 bello grazie a proposito siamo a solo per la maglia 30 secondi che ne pensi della nuova maglia dello scudetto mi piace mi piace mi piace più la bianca che l'azzurra però è bella molto bella è lo scudetto che fa la maglia e lo scudetto che la impreziosisce che con questa gemma in mezzo e lo scudetto te la diventa un dipinto un quadro quindi è bella sono curioso di vedere la terza però la bianca la bianca volve subito è tanta roba infatti è vero è tanta roba perfetto ciao a tutti ciao 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 solo per la maglia ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti